Il nostro futuro, la nostra salute, dipendono soprattutto dalle prime scelte che noi genitori facciamo per loro. Per questo siamo così importanti per la loro salute futura. Per mia figlia ho scelto Aptamil 3 con Prunutra Plus. I suoi nutrienti contribuiscono al buon funzionamento del sistema immunitario e allo sviluppo cerebrale. Aptamil Latte Crescita. Il suo futuro è nelle tue mani.